Siamo quasi arrivati alla fine del corso e nelle prime tre lezioni è bene fare una sintesi di cosa abbiamo imparato. I miei obiettivi formativi del corso vi ricordo sono tre, saper trasformare un corso in presenza in un corso in linea, saper progettare e creare corsi in linea in materiali didattici, learning object, saper valutare varie piattaforme e strumenti per il learning. Prima di tutto siamo partiti dai principi della progettazione didattica che le modalità necessarie per creare corsi in linea, non solo, anche corsi in presenza naturalmente. La progettazione didattica è una procedura sistematica, è basata su delle teorie, è una teoria essa stessa, applica principi e modelli che hanno una struttura molto precisa. Soprattutto la progettazione didattica è centrata sul discente e su due elementi, i risultati di apprendimento che desideriamo che il discente ottenga e l'evidenza dell'ottenimento, l'evidenza dal comportamento cambiato del discente. L'enfasi sul contenuto, quindi sia attività che risorse didattiche che sono predisposte per facilitare il viaggio di apprendimento del discente. Abbiamo anche parlato dei principi dell'Universal Design for Learning e in particolare come l'Universal Design for Learning sia connesso alle modalità di accesso al web, quindi Accessibility, Usability e Inclusion. I principi sono la flessibilità nei contenuti, nei esercizi, flessibilità dovuta a diversi stili di apprendimento, il coinvolgimento dell'utente, quindi interazione e motivazione, predisporre delle attività e consentire delle presentazioni al discente. Ecco, come questi principi si focalizzano sull'interazione, quali modelli e teorie per la vita creativa. Gli stili di apprendimento sono diversi, c'è chi preferisce stili sensoriali, chi stili cognitivi, chi stili sociali. Rispetto al sociale abbiamo anche visto come le comunità di apprendimento in linea hanno da considerare tre aspetti, non solo il docente, ma sicuramente l'attore principale è il discente, è una presenza cognitiva e anche è importante l'apprendimento sociale, quindi le comunità, le loro interazioni e relazioni. La motivazione è importante e soprattutto è importante sia attrarla facendo promozione, pubblicità del corso, ma soprattutto una volta che il corso è cominciato, come gestirla, come mantenerla. Ci siamo rifatti al modello Arches di Keller, in cui i quattro elementi che dobbiamo considerare sono l'attenzione, quindi questo soprattutto con l'interazione, mantenere viva l'attenzione. La rilevanza, dobbiamo offrire al discente qualcosa che lui capisce che lo aiuta quello che vuole fare o deve fare. La confidenza, la possibilità che il discente capisca che lui ce la può fare e la soddisfazione finale. Per la motivazione è molto importante il feedback, che è quello che viene dato soprattutto dalla valutazione. Abbiamo visto vari strumenti che sono disponibili online, quindi chat, poll, forum, ma anche autoriflessione, osservazione del discente, learning analytics, quiz, mappe concettuali. Sono molti quindi gli strumenti che abbiamo cominciato a valutare che le tecnologie danno per migliorare il feedback. Naturalmente c'è una valutazione sommativa più tradizionale con strumenti che spesso sono offline, come esami e colloqui, ma anche possono essere online con compiti, domande aperte, soluzioni dei problemi, presentazione di progetti, oltre che i test e i quiz. Continueremo con gli strumenti la prossima settimana. Il lavoro di gruppo già in questa fase è diviso in due parti. La prima parte vi ho chiesto di inserire nelle colonne fino a 5 strumenti software che conoscete. La seconda parte sarà di gruppo e la faremo durante la prossima lezione. Buon fine settimana a tutti. Grazie. Grazie. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.